Come decisore pubblico sono consapevole che siamo in un periodo in cui destiniamo molti soldi alla formazione e all'incontro tra formazione e lavoro. Pertanto è importante non disperdere questa opportunità. Nel caso dello IAT è abbastanza evidente come il coraggio, la scelta di mettere al centro i bisogni di un ragazzo, ma di farlo incontrare con un territorio, con le realtà professionali, crei quell'occasione che il mondo del lavoro sta cercando. Spesso ci lamentiamo del gap che esiste tra la formazione e il lavoro, il modo per superarlo è questo. Da questo punto di vista servono dei luoghi, delle strutture, serve la capacità e il coraggio di chi sa far incontrare lavoro, istituzioni, scuole, università e questo si realizza sui territori. È importante allora che i fondi del PNRR sappiano cogliere anche nei territori queste capacità mettendo a disposizione le strutture affinché questo incontro avvenga nel modo mirabile che è possibile osservare qui allo IAT.